...è pronto al segnale. Una piccola folla di curiosi è ansiosa e impaziente dell'inconsueto spettacolo. Via! La scintilla elettrica dà fuoco alle polveri. Un piccolo e irresistibile terremoto locale si produce nel ventre della roccia e l'esplosione stacca un milione di metri cubi di ottimo materiale destinato a lavori di fortificazioni e a strade. Quando la spessa nuvola di fumo e di polvere sarà diradata, i minatori incominceranno a lavorare i grossi blocchi. Il nuovo capo della polizia, Renzo Chierici, visita la scuola di Caserta e passa in rassegna i reparti di allievi. Il giuramento degli allievi. Dopo il rito del giuramento, gli allievi in un saggio ginnico, sportivo e militare dimostrano l'alto grado di addestramento da essi conseguito nelle varie attività che concorrono a fare di essi elementi idonei sia fisicamente che spiritualmente alle delicate funzioni a cui saranno preposti. Un nuovo impiego degli Stukas nell'estremo fronte settentrionale è quello di rompighiaccio. Ecco come lavorano questi rompighiaccio del cielo. A un segnale dato per mezzo di un razzo, gli Stukas lanciano delle bombe che fanno saltare e frantumano enormi fumuli di ghiaccio rendendo libere le acque. Il giuramento degli allievi I cani lupi ed esquimesi sono diventati ottimi ausiliari del soldato germanico dislocato nell'estremo nord ed anche per il fedele amico del combattente suona l'ora del rancio qualche istantanea del quotidiano allenamento I cani vengono poi addestrati al combattimento contro l'uomo per poter essere impiegati contro l'ende di partigiani un ferito al posto di medicazione una battuglia parte in estorazione in una foresta della Carelia I cani sono anche tradizionali animali da traino per slitte per il trasporto dei feriti sui campi di neve La Germania commemora il quarto anniversario della morte di uno dei suoi più illustri figli Nicola Copernico, assertore di un nuovo universo l'astronomo sommo grande e geniale come il nostro Galileo che spodestava la piccola terra dal centro del nostro sistema planetario e vi poneva il sole Copernico studiò nelle università italiane ed in Ferrara l'anno 1503 otteneva il diploma di notaro archivista Il sistema solare come fu intuito e dimostrato dal genio copernicano è ancora oggi alla base della nostra scienza astronomica Manoscritti e volumi di Copernico Il ministro Rust ha commemorato il grande concittadino alla presenza di scienziati italiani e germanici ad alcuni dei quali sono stati poi consegnati premi intitolati al sommo astronomo Il conferimento del premio Copernico all'Accademico d'Italia Severi Nella festa dell'ascensione si è celebrato in una città dell'Italia centrale con l'intervento della principessa Maria di Piemonte il conferimento della cresima ad un gruppo di ufficiali e soldati Monsignor Bartolomasi, Vescovo Castrenze ha iniziato il rito con la celebrazione della messa La cresima Dopo la cresima i militari si sono avvicinati alla sacra mensa dell'Eucaristia Terminata la pia cerimonia Maria di Piemonte ha voluto personalmente distribuire i doni offerti ai cresimati dalle donne fasciste L'augusta signora è stata poi affettuosamente acclamata dalla folla Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti